Il quarto ordine del giorno che illustro è quello che riguarda la dote scuola e quindi la partecipazione di Regione Lombardia all'acquisto dei libri di testo. È stato cambiato nel corso degli anni, adesso è una compartecipazione per l'acquisto dei libri di testo, totalmente insufficiente. Vogliamo far presente che sono stati finanziati con questa compartecipazione 83.640 beneficiari, con un ISEE massimo di 15.494 euro e con un massimo di compartecipazione per quanto riguarda persone con un ISEE fino a 5.000 euro di 240 euro. Per le scuole superiori e solo fino alla seconda superiore. È inaccettabile perché i libri, e lo sappiamo benissimo, per far andare i propri figli alle scuole superiori, ammontano solo i libri almeno a 600 euro. Poi c'è tutto il resto, la cancelleria e tutto quanto ne va dietro. Noi non sappiamo come facciano i conti in Regione Lombardia ma evidentemente non li fanno bene perché hanno deciso di stanziare e l'anno scorso sono stati stanziati addirittura come misura sperimentale perché non bastavano i soldi che davamo prima per il buono scuola, cioè per quella che chiamano libera scelta alle famiglie per mandare i propri figli alle scuole paritarie. È stata fatta una misura sperimentale per cui si sovvenzionano anche le famiglie con un ISEE e vediamo bene qual è l'ISEE delle famiglie che mandano i figli alle scuole statali, da 38.000 a 42.000 euro. Per cui sono stati dati 843.000 euro a 1.095 beneficiari contro gli 83.000 dall'altra parte e i contributi del buono scuola sono ben più alti. Noi riteniamo che questo sia vergognoso da parte di Regione Lombardia. Con questo ordine del giorno quindi chiediamo che vengano eliminati sia la fascia che va dai 28.000 ai 38.000 euro che è costata 4.500.000 per 5.000 famiglie di studenti beneficiari, sia la fascia di cui parlavo prima dai 38.000 ai 42.000 perché vengano girati per l'acquisto e un buono decente di acquisto per le scuole medie e le scuole superiori per i libri di testo, almeno quello diamo alle famiglie che sono sempre più in difficoltà. Poi non parliamo di dispersione scolastica quando non interveniamo in modo efficace per aiutare le famiglie che davvero hanno bisogno.